Scusa, abbiamo portato la macchina a fallare i video. S'ufficio del fronte a destra. Grazie. O te chi sei? Quello di Renno 4. No, e sono quello della Panda. Me l'ha fatta la revisione? Com'è? Com'è andata? Sì, bene, l'hanno bocciata. E c'avea... E come me l'hanno bocciata? E fa un'aria ugnandino. Ho capito? Ma cazzo, cambiamelo fino a fare la revisione, no? Scusa, ribombato. E ascolta, gli ho dato anche una soffiata al filtro dell'aria, ma un giro, capito? E non so mia, non lo so che c'ha. E là un... Là un ti parte, là un giro, tu c'avevi un braccio spaccao, tu rischiai anche di rimanere a piedi, capito? Dio per te io. Bisognerebbe, capito, se tu facessi un bel lavoro. Ho capito? Ho capito, ma scusa. Il filtro dell'olio, capito? E la cera meglio, un 15-40, 15 metri. Ci sono messo un bel extravergine d'oliva, la cera meglio, l'aveva fatto il tappo, il tappo, il filtro dell'olio. Ho capito, ma hai tagliato? E credevo che andesse la benzina. E ci ho fatto il piano di diesel e non va più. Non so come mai, capito? Eppure per dire gli farebbe... Ho fatto la benzina, capito? E un vattise. E tagliato si era fatto la toglia. Ero... Tre gli aumenti, si fece già il tagliato. Ero convinto, ci andesse... Ho una sega, lo sapevo. Non lo capire, ma ragazzi. Ma ci si rifà. D'altronde gli aveva la barmitta, faceva il tappo. E te la boccianno per quello, gli aveva la barmitta. Ma se tu me la riporti, te la passanno. E ci smette, tu me la porti, ti fai tagliando. E te la fò passare, capito? Ma io la porto a stiano. Per dire, non ho capito, sono più bravi. Saranno più bravi a stiano, te la passeranno. Allora vai a stiano a rompere i coglioni. Vai al centro di revisione a stiano, se sono tanto bravi. Vai allora da Daniele e Lilenio a rompere i coglioni da così, se sono tanto bravi. E cos'è il centro di revisione a stiano? I che farebbero? D'ogni ossa, c'hanno le gomme, il centro di revisione, c'è i meccanici... Cazzo, allora c'è la porta anche io. No, giusta la porta da loro se sono precisi, capito? Diamoci. Centro revisione Seano, via Vangelista Torricelli 16, osso, a Seano, provincia di Prao. Meccanici professionisti, centro revisione e ti cambiano anche le gomme, che tu vuoi di più? Questi ti cambiano anche i budelli di tumacco, osso. Sono bravi, sono bravi, osso.